buongiorno siamo arrivati da bugari oggi dobbiamo accordare l'ola per il tour a cuba al festival di leo praga siamo nel regno della fisarmonia a castellano esattamente nel cuore della ditta bugari oggi l'ola verrà aperta totalmente e rimessa a punti se c'è qualche spalmola che secondo me non tiene ma sempre sto registrato qua non so perché se diciamo come strumento molto innovativo la nostra prima bike hanno fatto il game non è come l'altro bayern che sono sul mercato sono proprio delle bayern diciamo il game è stato fatto stagionare per molti mesi in modo tale che il suono acustico è migliore è stato ridotto il peso di questa bayern di circa un chilo e mezzo quindi diciamo che anche per il pubblico femminile c'è molto molto apprezzato è stato lavorato è stato anche l'accadio quindi quando una persona tocca questo questo tempo diciamo che apprezza anche il corpo dello strumento e c'è una sonorità che è veramente diversa la prima cosa con una persona che sente la leggerezza dello strumento nonostante le dimensioni del bayern sono state fatte molte lavorazioni raccordatura sono state fatte in maniera diversa rispetto alle norme inviato il traforo quindi diciamo che disegno noi questa è la bayern opera unia opera perché infatti è legno bene continuiamo su questa strada grazie ciao